Buongiorno e benvenuti a questa diciassettesima lezione dei tutorial di CadeSimu. Vediamo cosa abbiamo studiato brevemente nella lezione precedente e poi procediamo con quanto facciamo quest'oggi. Allora, la volta scorsa abbiamo visto questa la sezione dedicata al linguaggio ladder di programmazione del PLC fondamentalmente. Quindi abbiamo visto tutta una serie di simboli, normalmente aperto, normalmente chiuso, che sono i contatti, il fronte di salita, il fronte di discesa, le bobine, set reset e i vari blocchi con il discorso del blocchi di timer, il blocco di generatore di impulsi e poi i contattori di diverso tipo. In questa lezione andremo a vedere un altro linguaggio di programmazione sempre per il ladder e lo trovate qua. Vedete, questo qua è il linguaggio di programmazione di tipo graphset. Vediamo insieme di che cosa si tratta. Molto brevemente non mi addentro nella spiegazione, nel senso che questi sono brevi tutorial per chi almeno sa già concettualmente di che cosa si tratta e quindi più o meno andare a vedere, di spiegarvi le varie icone e fare qualche breve esempio. Se poi avete piacere di approfondire le varie parti o i vari linguaggi, lo farò magari in video diversi e me lo farete sapere. Il linguaggio grafico graphset è un linguaggio di tipo orientato alla sequenza, cioè sequenziale, vuol dire che noi dobbiamo sempre leggerlo dall'alto verso il basso. E gli elementi principali del linguaggio sono quelli che trovate qua, dove questo quadrato doppio, diciamo, doppio quadrato, è quello che si chiama stato iniziale. Qui viene detto, vabbè, tappa iniziale e lo trovate in questo modo. Vediamo se riesco a zoomarlo ulteriormente. Lo trovate fatto in questo modo. Vedete che all'interno di ogni stato c'è comunque un numero. Poi vedete, ci sono le altre varie tappe, quindi vedete, adesso facciamo dei brevi esempi e poi vi dico anche il perché c'è questa righetta laterale. Quindi questi sono gli stati. Questo simbolo rappresenta quella che viene chiamata transizione. E poi ovviamente il collegamento tra i due, adesso io qua l'ho fatto distanziato, lo sposto. Tra due stati deve esserci sempre una transizione. E poi qua abbiamo l'altro elemento che è l'azione. Quindi a che, quello stato lì, a che azione è collegato. Abbiamo anche poi la possibilità di mettere, vedete qua, comunque le linee e eventualmente quello che sono comunque gli archi orientati. Quindi in realtà si va dall'alto verso il basso. Se eventualmente per qualche motivo c'è da prevedere un loop di ritorno, allora bisogna andare a mettere le freccine per far capire che si sta tornando indietro. Se no lo si legge dall'alto verso il basso. Ok, detto questo andiamo un po' più nel dettaglio. Allora abbiamo detto che questa col doppio quadrato è la tappa o stato iniziale e ad ogni tappa può essere associata un'azione. Quindi la vedete nel riquadro qua. Io adesso ho fatto un piccolo esempio che vi faccio vedere. La transizione può essere vera o falsa e questa abilita il passaggio da uno stato a quello successivo. Ricordiamo che andiamo sempre dall'alto verso in basso a meno che non ci sia poi un segno con una freccia. Quindi in questo caso qua, guardate che la ribalto, quindi in realtà una freccia in questo modo qua poi, che riporta la condizione. Qua ad esempio ho fatto un esempio molto semplice, quindi comunque associato un pulsante S1 all'accensione di una lampada e S2 all'accensione di un'altra. Vedete che qua ho settato Q1 come uscita del PLC qua, ho preso questo piccolino per non occupare troppo posto. E qua praticamente abbiamo, se parte la simulazione, iniziamo dalla tappa 0, andiamo a premere S1 e quindi facciamo questa transizione. Quando S1 è vero, arriviamo a questo stato qua in cui ho l'uscita Q1 che mi fa accendere questa lampada. Adesso non ho dato nome, è proprio una cosa buttata lì. Dopodiché rimane questo stato finché non ho la transizione successiva. Transizione successiva, premo il tasto S2 e in questa azione associata c'è semplicemente quello di settare l'uscita Q2. Quindi viene rilasciata l'uscita Q1 e è accesa l'altra lampada. Poi semplicemente questo da qua si riaspetta eventualmente un'azione su S1 e quindi va ad accendere, insomma si accendono alternativamente. Quindi questo è un esempio molto molto banale. Allora qua è la transizione, potete dargli un nome e visualizzarlo, però questi nomi e funzioni vengono posizionati un po' malamente. Quindi io in genere preferisco poi eventualmente utilizzare questo perché se vedete poi rimane abbastanza non chiaro il disegno. Qua la transizione da cosa dipende? Può dipendere, ad esempio qua ovviamente è stato vero il premere l'S1, può essere una condizione di AND, può essere una condizione di OR con qualche altra. Quindi ovviamente è un discorso questo e quello oppure questa condizione o quest'altra condizione ed altre poi possibilità. Quindi qua poi avete parentesi da poter mettere per poter impostare funzioni più complesse. Qua abbiamo detto che diamo il nome e qua l'azione, allora intanto ovviamente qua ci sarà l'uscita del PLC che viene interessata e qua le azioni. Può essere 1, può essere il set, può essere il reset e qua poi ci sono il ritardo e il periodo per cui rimane su. Oppure l'effetto impulsivo, questo onestamente devo ancora capirli perché non è che siano molto chiari e sapete che di questo poi bisogna andare un attimino a provare di persona. Io poi non usando tanto il graph set per abitudine devo un attimino poi capire bene come funzionano. Mi riserverò sicuramente di provare altri schemi per potervelo spiegare meglio. Quindi questo è un primo schema molto molto basico. Andiamo a vedere gli altri simboli. Allora è anche possibile creare sequenze alternative e sequenze simultanee, un po' come i diagrammi di flusso, solo che nei diagrammi di flusso ovviamente ogni blocco praticamente sei in quel punto lì e non puoi essere altrove, in poche parole. Qua invece alcuni stati, gli stati possono anche essere simultanei, quindi sempre col discorso dall'alto verso il basso. Quindi abbiamo tutta questa parte qua che mi può creare delle sequenze alternative e qui abbiamo un percorso di tipo divergente. Lui lo crea così, poi noi possiamo andare ovviamente a definire il collegamento, adesso qua ovviamente fa pasticci, quindi comunque diciamo la divergenza alle due strade, qui ci saranno gli altri stati e così via. E qua poi invece quello convergente, quindi da condizioni che vanno nello stesso, in un unico blocco, quindi diverge e converge. Questi invece sono i simboli per il discorso delle sequenze simultanee, quindi anche qua abbiamo divergenza e convergenza. Adesso qua non si vede granché, ma poi allora con questo in realtà create il discorso del simbolo che indica il fatto che sono simultanee. Quindi diciamo potete fare i vari blocchi a mano e diciamo combinarli oppure sfruttare quelle che sono già le simbologie di questo tipo. Ecco qua un esempio un po' più, non sono stata a mettere il nome degli stati, cioè nel senso proprio così per vedere come fare una divergenza con una sequenza alternativa, quindi o va di qua o va di là, quindi o prendo una strada o prendo l'altra e poi converge, oppure sequenze simultanee che seguono entrambe le strade e poi convergono. Bene, direi poi questo è quello che ci rimaneva quindi il discorso freccia in entrata e uscita e questo è il discorso di una macro tappa. La macro tappa non è in realtà una tappa vera e propria, ma è un insieme come se voi raggruppaste un sottoprogramma, un sottografset, un blocco già creato e quindi fate riferimento a quello. Quindi create tutto un blocco, lo chiamate M1, quello diventa una macro tappa e questo ovviamente per quanto riguarda il discorso di schemi più complessi. Bene, con questo è tutto, spero di essermi spiegata in modo sufficientemente chiaro, fatemelo sapere nei commenti, se volete ulteriori schemi sul discorso di questo linguaggio di programmazione, fatemelo sapere. Ci vediamo al prossimo video!